Non scattare adesso! Non scattoletevi! Che è scattato adesso! Oh 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 oh! 8.000 di ante! Ante! 1! 1! E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui in un nuovissimo Hunger Games. Ragazzi, lo scorso Hunger Games è arrivato oltre i 3.000 like, se ricordo bene, e questa cosa mi rende felicissimo, davvero I'M HAPPY! Quindi ve lo meritate, ve lo siete meritati ragazzi, oggi giocheremo un altro Hunger Games, sperando di, sperando di, sperando di, perché noi speriamo di vincere, perché se non speriamo la prendiamo nel frattempo. E' un po' di tardo oggi, il video delle 13, infatti questo è il video delle 14.30, sta renderizzando il video, quindi se hai veduto ogni tanto degli scatti è normale. Oh c'è Luke! C'è Luke! Oh c'è Luke! C'è la vecchia skin di Luke, quindi it's alright, it's alright, c'è Luke ragazzi. E dovremmo stare molto, molto, molto attenti, perché, perché, oh sì baby! Vabbè, comunque scherzi a parte ragazzi, non pregiamoci barbabietole, e direi di arare tutti questi quattro stronzetti. Cazzo mi hanno rubato, vabbè me le ha rubate lui le robe, dove è quello nero, dove è quello nero? E dai pezzi di merda! Oh pezzi di merda, vieni qua eh! Cazzo, cazzo, no! Ahahahah! Quindi, se vi è piaciuto, mi sembra lasciato un bel pollicione in su, chiusura al video e commentate, condividete ad un altro video e ciao ciao! Sì lo so ragazzi, Pepo dovevi scappare, Pepo non si stalli, Pepo devi prendere le geste e scappare subito, mi, Pepo! Lo so, ma ve l'ho detto, ma a me piace Killare, è figo, mi piacciono gli scontri Adesso, cioè prima scappavo come una merda Ma adesso mi 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 Quindi quella roba lì, quella roba lì Io direi di non perderci in barbabietole Ok, per fortuna i 15 secondi Fassidiosissimi, sono passati E quindi, non perdiamoci Assolutamente, che poi sono pure Brawler, se premevo il tasto destro Lo facevo volare via, cioè sono stronzo Raga, mi scelgo i kit ma non uso Le cose del kit, cioè sono Pirla io, ragazzi, non è che dite Pirla, non lo so, George Clooney No, poveretto, lui non c'entra niente Cioè per quanto pirla lui effettivamente possa essere Lui non c'entra niente Ma devo dire che è andato molto bene L'Hunger Game, come potete vedere Cioè, nemmeno, nemmeno, ma sono spanato Dentro un orso, salve, salve però Sì, che bello l'orso, mamma mia Hi my beer, hi my beer, questo sarà il titolo Del video, hi my beer Porca, la spada l'ho presa Io stavolta, eh, la spada l'ho presa Io stavolta, fea Fea, mamma mia Quindi, con questa bellissima spada Uh, abbiamo questo bellissimo stronzo Con questa cosa Uh, bello, salve Sì, bravo, 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 bravo Bravo, inculati qua, inculati qua il video, stava andando fluido, cioè guardate adesso va fluido, va a 100 fps cioè adesso va fluido, ogni tanto da un piccolo scatto, vabbè, sta renderizzando il video delle 13 GTA 5, però capite bene che, porca troia cioè porca troia, ai bambini siamo morti brutalmente, cioè ce l'hanno date cattivi, ma proprio cattivi minchia però, raga, non è colpa mia però, cioè vi giuro davvero raga, non è colpa mia, ai bambini mi hanno incastrato, io di lì non ci passavo infatti io l'ho detto, vedi che se passano lì mi incastro, infatti mi hanno incastrato porca vacca, cioccia cioccia vacca vediamo se ho ceste così giusto per perdere tempo no, non ho ceste da poter aprire mmm, game menu dobbiamo aspettare un secondo un secondo, quanto porca troia è lungo questo secondo, ok è passato mamma mia, è stato il secondo più lungo della mia vita vi giuro, vita mia non ho mai visto un secondo così lungo, quindi allora, capito, potevo riusare il brawler ma io sono stronzo, perché non uso gli effetti, gli effetti, sì, sì allora, ora tutti nei commenti dovete scrivere pepo hashtag cazzo cioè quindi, porca vacca raga dai allora, mettete pollice in su perché io, se mettete pollice in su userò il potere del tasto destro no, cioè del click destro ragazzi cioè niente un po' di meno che il tasto destro io sto pure morendo di caldo cioè non so che temperatura ci sia da voi io sto morendo di caldo ragazzi mamma mia, mamma mia sono tutta sudata quindi terzo hunger game di oggi ragazzi i primi due non è che sono andati male per carità non sono andati male nel senso che se potevano andare male sono andati cioè nel senso non è, ripeto non è, sono andati malissimo però tutto è un po' di rinculo ok, perfetto oh, c'è uno tutto tutto perché questo qua c'ha la faccia nei piedi vabbè, sapete che vi dico questo qua c'ha la faccia nei piedi sarei il primo a morire perfetto dai, vieni qua vieni qua, bello vieni qua, bello vieni qua amami si chiama amami questo qua vieni qua che ti amo tutto tesoro mio tesoro bello baciami il pisello tesoro mio ti ammazzo io e vieni qui ti apri in due in quattro e ti ho aperto sta arrivando oh, ciao David ciao David ciao bello di papà ciao ciao che sei bello testa di cazzo it's alright oh, questo qua è morto guardando il cielo eh, sì devo dire ho delle belle nuvole allora mmm dico il cielo ho delle belle nuvole sì pezzetti morta quindi abbiamo due carni marce guardiamoci attorno ok perfetto corazza 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 è già qualcosa le carni marce per il momento ce le teniamo abbiamo un ferro se ne troviamo un altro ci facciamo già la spada certo non abbiamo i bastoncini findus quindi sì bella roba oh yes mother fucker allora qua di solito c'è sempre qualcuno di solito eh certo di solito eh mi sa che oggi non siamo nel solito quindi oggi non c'è nessuno quindi allora io direi di ah sono cadute in acqua mamma mia che barba biedola ok salve salve ok saliamo nella nave ragazzi vediamo se troviamo delle ceste se ogni tanto vi ripeto vedete degli scatti vi chiedo scusissima ma sto registrando mentre sto renderizzando il video delle tredici sono le tredici passate ah maria minchia mi cagavo un capo mi cagavo un capo sicuramente ora lui in chat scriverà che per forza non può non scriverlo non può non scriverlo ora lui seriamente in chat scriverà che non lo ha scritto vabbè io non ho niente da dire dovevo essere morto non so se vi è chiaro dovevo essere morto per forza per forza ma invece sono vivo che culo che culo che culo io l'avevo detto che teoricamente già qua dentro qualcuno ci doveva essere voi non mi avete creduto e invece e invece fea ce l'ha ce l'ha effettivamente qualcuno è che sono qui a dire cose sono qui a dire che le cose vere oh che bello 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 elmo si si sono tutto diverso mamma mia porca bacca allora quindi quindi nulla dobbiamo uscire da qua assolutamente e cercare e cercare quanti siamo rimasti 9 siamo rimasti porca vacca scendiamo qua perfetto magari volevo scendere senza farmi male ok qua mi c'è 60 fps ma io non lo vedo proprio bello fluido eh cioè sinceramente parlando ok comunque penso che capirò assolutamente quando il video finirà di renderizzare poi ve lo operrò subito ragazzi cioè questo video uscirà alle 14.30 perché appena finisco lo renderizzo subito perché io sono una persona brava c'è un foto in team no non sono in team non sono in team ma fatti menare ma che cazzo me ne fotte ma menatevi tra di voi ma che cazzo se ne fotte ma che cazzo se ne fotte menatevi vai menatevi 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 vai menatevi menatevi perfetto vai mi state menando mi state menando perfetto ok perfetto fatto visto che bravo ragazzi visto così si gioca approfittate degli altri stronzi che se le danno e poi voi diciamo che che pezzo di merda siamo rimasti in 3 4 5 ragazzi ci sono 5 nick ok certo perfetto vai bravo pepo che sprechi le robe allora io direi leviamoci i pantaloni ci mettiamo questi qua ci leviamo questi piedini e mettiamo questi qua leviamo questo qua e mettiamo questo qua perfetto cioè mi è andata benissimo ragazzi mi è andata benissimo cioè meglio di così non so oh porca vacca ci dovrebbe essere qua vicino no cazzo ah è là 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 porca vacca è sparito no cazzo l'ho perso siamo rimasti in 5 ragazzi ma ho bussola ma che devo avere ma che devo avere ma che devo avere sto cazzo sto cazzo sto cazzo porco schifo non sballo mi piace ok oh pantaloni in ferro quello là non si è messo vabbè va bene a me va bene quando la gente è stupida a me va benissimo cioè dov'è dov'è ragazzi sto facendo silenzio perché perché lo devo trovare dove cazzo sono in team raga porca troia sono in team sono in team porca vacca potrei andare ne faccio uno ma muoio ma muoio tantissimo ho delle frecce ma che devo avere ma che devo avere non c'ho niente cazzo ragazzi sono nella merda sono nella merda hashtag le tattiche di pepo hashtag le tattiche di pepo allora raga porca troia devo andare all'arrembaggio diso immaginazione diso immaginazione no ammazza ti ammazza ammazza quello ammazza quello ammazza quello non a me pirla non a me sono in team quelli là cretino beh guarda 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 perfetto vai vieni qua vieni qua vieni qua ti ammazzo di brutto vieni qua testa di merda vieni qua vieni qua vieni qua coigione di merda vieni qua che fa hai paura hai paura hai paura hai paura bastardo pezzo di merda vieni qua scappi scappi ok yes no approfittatore di merda approfittatore di merda caccia ragazzi c'ho due cuori ragazzi sono bello che è morto ragazzi sono bello che è morto mi sa che sono arrivato terzo no disastro disastro allora ragazzi se io mi giro repentinamente no se io mi giro repentinamente lo lancio non mi sto inseguendo non mi sto inseguendo allora ragazzi ragazzi niente è perduto niente è perduto ragazzi con calma con calma con calma maria sono agitato sono in la merda porca vacca ma pepo pepo calmo pepo calmo pepo rigenati pepo rigenati attenzione mamma mia pepe in su piatto oh tu si oh vi avrò tutti oh sei bastardi non vi avrete mai ragazzi cazzo sto andando di là assolutamente ragazzi assolutamente ragazzi si vabbè però se mi levo tutti i cuori allora ho 5 livelli ragazzi mi devo assolutamente e dico assolutamente incantare assolutamente assolutamente ok magari con questi scatti di fps ragazzi vaffanculo vaffanculo vi chiedo scusa per gli scatti vi ripeto sto renderizzando altro video voi già vedete che palle minchia ne hai già renderizzato i 3 di video quindi tranquilli 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 un bel video scattoso come piace a noi bello di pessima qualità perché a noi i video di pessima qualità piacciono quanto cazzo ho dato fatto il 25 ok buono buono ok abbiamo tutta la vita ragazzi e sono io contro altri due e uno è là uno è là uno è là uno è là porca bacca bacca la porca wow dov'è il pezzo di merda ho visto un qualcosa e si muoveva ragazzi ho visto un qualcosa e si muoveva mancano due minuti al deathmatch ragazzi due minuti due minuti c'è un minac c'è un minac ok seguiamo la strada seguiamo la strada certo a me dovrei salire per di qui quindi io direi di salire onde evitare che il muro mi uccida ragazzi sono concentratissimo ragazzi sono concentratissimo ragazzi mamma mia non posso permettermi di sbagliare madonna sono saltate in aria ed è un rumore che viene da fuori oh chelvenia chelvenia c'è un parura oh salve vieni qua pezzo di merda vieni qua ah è il pirla di prima raga è il pirla di prima no bastardo 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 no one wheel quindi mi ha arato brutalmente bravo questo qua porca vacca vabbè sono io che sono anche una sega perché non è che mamma mia ma è bravo mamma mia mi ha arato tantissimo abbiamo fatto 5 kill 10 gemme per aver partecipato e poi e poi carissimo poi e poi siamo arrivati i secondi nulla ragazzi quindi se il video è piaciuto come sempre è stato un bel pollicione in su qui sotto al video commentate condividete mi sa che ha finito renderizzare adesso il video ragazzi mi sa che si si vado molto più fluido adesso mi sa che ha finito renderizzare il video di gta quindi vi opero in ritardo mi sa con un'ora di ritardo il video di gta 5 e sti cazzi vi chiedo scusa ragazzi se stai vedendo questo video e non avete visto gta 5 aprite il mio canale scrivete oppure pepe393 pepo 3393 fate quel che cazzo vi pare andatelo a vedere perché vi ricordo che se arriva ai 2500 like quel video vi opero entro le 18 un altro video di gta 5 quindi detto questo spolliciate commentate condividete ad un prossimo video e ciao ciao ciao